Grazie Carlo, grazie a tutti voi, che bella serata. Ho scritto questa canzone per questa serata che vorrei dedicare a Carlo, che era un grandissimo della musica napoletana. È un'anteprima, si chiama Brucio a brucia. Quello strumento che avete visto prima ha 4.000 anni di storia, arriva dall'India, come tutta la cultura sul Mediterraneo, arriva da laggiù, attraverso il mondo greco. Noi siamo la tradizione greca che continua questa sera, la tradizione dionisiaca. Noi siamo, noi siamo, noi siamo, ma sembra che nessuno ci può fare. Quando va rega tutto il fondo, la storia può cominciare. Noi siamo, ma sembra, ma non fuori ci può studiare. Ma sembra, ma sembra che non ci és normale. Alla prossima, signale. Noi siamo, mentre, non fu coaches. Noi siamo, ma sembra che nessuno ci può fare. Grazie a tutti.